A San Gregorio di Catania è arrivata al secondo appuntamento la rassegna musicale Naxos in Musica, diretta dal violinista Francesco Toro, presieduta dal pianista Giuseppe Gullotta e patrocinata dagli assessorati alla cultura e allo spettacolo del comune di San Gregorio di Catania. Il prossimo concerto si terrà il prossimo 15 ottobre nell'auditorium Carlo Alberto dalla Chiesa a partire dalle 19.30. Il concerto per viola e violino e pianoforte vedrà protagonisti musicisti Simone e Maurier statunitense e Yuxpan, anch'esso proveniente dagli USA, impegnati in musiche di Schubert, Beethoven e Gerswin.